Grazie Antonio, grazie Sherwood Festival, grazie a tutti voi. Beh, parlarei su quel ragionamento, partendo da questo, 4 marzo in Italia le elezioni politiche hanno segnato senz'altro una discontinuità politica, culturale sulla questione del reddito. Come sapete c'è una forza politica che ha imposto un non meglio chiarito, adesso è un po' più chiaro, proposta di reddito di cittadinanza, così facendo ha scoperchiato la realtà della nostra economia, che è appunto quella dell'iperprecariato, del sottosalario tendente al lavoro volontario e con questa categoria malintesa e che in realtà, poi spiegherò in maniera molto breve, sottintende tutt'altro, ha fatto emergere quello che è la coscienza diffusa a nord come a sud del paese, che il lavoro che facciamo così inteso, sottosalario iperprecariato tendente al lavoro volontario è inutile per la riproduzione e la sopravvivenza di chi lo fa e quindi è necessario pensare a una società che sistematicamente ricorre a un'ipotesi di reddito di cittadinanza. Adesso lascio da parte tutte le buone ragioni che mi porteranno a dire che il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle non è affatto un reddito di cittadinanza, cioè un'erogazione a vita ai cittadini di un reddito diretto monetario di un certo livello al di sopra della soglia del reddito mediano che in Italia è calcolato in 780 euro a persona. Così non è. Che cosa intendo io per reddito invece di base, incondizionato, individuale e universale? Beh, innanzitutto in quanto proposta politica contiene l'elemento unificante in cui possono riconoscersi italiani e stranieri che risiedono in questo paese ad ogni titolo. È il controcanto questa idea di reddito di base alla contrapposizione artificiale tra immigrati e autotoni intensificata dalla propaganda razzista e da una vergognosa lettura di Karl Marx. chiarisce l'ipotesi politica di reddito di base l'equivoco della contrapposizione tra diritti civili e diritti sociali molto atrocemente diffusa anche in una certa sinistra. Il reddito di base è così inteso l'espressione di un diritto di esistenza indipendente dal lavoro, dalla cittadinanza, dalla nazionalità, dallo status lavorativo e non lavorativo della persona. In cosa consiste questa politica che potrei definire della coalizione o, come dice il movimento, non una di meno dell'intersezionalità, dell'intersezione? E beh, mette insieme ciò che vogliono dividere, una politica della solidarietà, dell'attacco e non della difesa. Non ci sono più bianchi contro neri, etero contro gay e lesbiche, italiani contro Roma, e questa è la nuova novità di oggi, e anche tra i Roma, a quanto pare il ministro Salvini sembra voler far discriminare gli italiani Roma dagli altri. Invece, in quest'ottica, rifiutando completamente la lettura tutta italiana, assolutamente strumentale e iperideologica, derivata dalla cultura lavorista del lavoro, di cui purtroppo in Italia fra i tanti primati anche questo abbiamo, non si contrappone dal punto di vista di una politica che è il reddito di base, il reddito al lavoro, ma nell'ottica della coalizione le due cose stanno insieme. E quindi il bracciante cammina insieme al rider, i precari insieme ai cosiddetti garantiti, il facchino insieme allo studente, l'occupato insieme all'inoccupato, il disoccupato insieme a colui che magari ha un ruolo da dirigente. In senso trasversale, in controluce, per meglio dire, la politica del reddito di base è innanzitutto una critica all'eredità, che segna profondamente una parte crescente della forza lavoro contemporanea, che è quella del colonialismo, dello schiavismo, che si attualizza in molteplici maniere fino anche ai livelli più alti del governo di un paese. Allo stesso tempo critica e relativizza il sessismo, il paternalismo, che è un'altra bella quota del sistema di governo della nostra forza lavoro e delle nostre mentalità. In quest'ottica, invece, di una solidarietà internazionalista, relazionale, di una ricerca sistematica di un'etica della potenza comune, non solo individualistica, non contrappone i diritti all'identità sessuale, l'identità sessuale alle condizioni lavorative o non lavorative. Insomma, in generale, una politica del reddito di base, per come credo la si intenda in maniera anche molto interessante, negli ultimi due o tre anni in Italia è di nuovo protagonista di un laboratorio culturale e politico di primo livello, rispetto, come è sempre stato del resto, sin dagli anni 70, devo dire. Ma ancora di più negli ultimi due o tre anni l'Italia si sta caratterizzando nuovamente per un nuovo tipo di ricerche su questi temi in questa chiave che sto provando a esplicitare stasera. Insomma, è una politica del reddito di base e richiama una ricomposizione sociale della forza lavoro che intreccia molteplici identità e non contrappone finalmente i penultimi agli ultimi, che, come avete avuto modo di vedere nelle ultime due settimane, non solo, sarà la regola del prossimo quinquennio, la cosiddetta guerra tra poveri. Ovviamente il reddito, così inteso, è un discorso sul fisco, è un discorso sulla redistribuzione delle ricchezze prodotte, sull'autonomia e il desiderio, è una liberazione, per usare una categoria di Marx, dal lavoro e del lavoro. Farei molta attenzione a questo, e quindi torno da ciò da cui ero partito, la proposta del 5 Stelle. Di cosa si tratta il reddito farlocco sulla cittadinanza che loro pensano di istituire, poi vedremo in che modo, in che tempi, perché è tutto da vedere, è un reddito minimo condizionato all'inserimento lavorativo e alla riqualificazione professionale. Questo, tecnicamente, è il reddito e cittadinanza di cui si parlerà in Italia nei prossimi 5 anni. È vincolato, come è noto, a una riforma piuttosto visionaria e coraggiosa dei centri per l'impiego, che, come è noto, in Italia riescono a trovare, i dati dell'ultima settimana sono piuttosto nuovi, solo il 3% del lavoro, il resto, più del 90% per chi cerca lavoro, lo ottiene da relazioni parentali o di amicizia. I 5 Stelle vogliono mettere 2 miliardi e 100 milioni di riforma sui centri dell'impiego per centralizzare l'offerta di un lavoro qualsiasi, obbligando i percettori su base familiare non più individuale, come era stato detto negli anni scorsi, dal 2013 a oggi, a una scelta su tre offerte. Se rifiuti non potrai più ricevere questo sussidio. Attenzione, il sussidio prevede la riunificazione di tutti gli ammortizzatori sociali, così come sta avvenendo, è già avvenuto in Inghilterra col governo conservatore, quindi tutti i sussidio di disoccupazione, di povertà, eccetera, saranno reintegrati in un'unica formula, che è questo pseudo reddito di cittadinanza, e si intravede così nel prendere o lasciare, nell'obbligo del prendere o lasciare, la trasformazione del povero in indebitato. Se non sarai più in grado di accedere a questo tipo di risorse, vi lascio immaginare la vita che farà questo povero. Quindi è necessario, in un'ottica di una politica di reddito di base, chiarire definitivamente che si tratta di un reddito incondizionato. Al di là che tu lavori o meno, tu percepisci 780 euro al mese, se non di più, ma potremmo anche, però, stando alle regole, ai calcoli ufficiali, si potrebbe evidentemente chiedere di più, però insomma andiamo con calma. Questo che cosa significa? Beh, spacca il vincolo principale su cui è costruita la nostra civiltà, il nostro sistema di welfare, tu hai il riconoscimento di un diritto di cittadinanza se lavori. Nel momento in cui, come è evidente, il lavoro non basta più a fare un cittadino, perché non riesci nemmeno a sopravvivere, dai quei medi a 200 o 300 euro, dal lavoro in chiaro che riesce, parlo di un precario ideale medio, riesce a mettere in piedi in un mese, è chiaro che è bisogno di un sussidio di integrazione che verrà chiamato nuovamente reddito di cittadinanza. Bene, questo meccanismo, che è un meccanismo del nuovo ricatto definito tecnicamente politica attiva del lavoro. Queste sono tutte categorie che vi saranno ammannite nei prossimi 5 anni, quindi è bene iniziare a prendere un po' di confidenza, perché sarà fatto tutto il nome del nostro bene, in un paese povero che protesta contro l'Europa mentre prende ordini dai padroni della finanza dell'Europa e si rifà sui migranti, sui rom, sui poveri. Insomma, questo bisogna tenerlo molto in conto e non ho dubbi che voi lo teniate. E in secondo luogo questa incondizionatezza è una proposta molto forte, molto ambiziosa e molto qualificante di una proposta politica. Va considerata all'interno del discorso sulla fiscalità che questo governo ha annunciato di fare, che è la flat tax, che come noto sarà, tra le tante cose, vi risparmio calcoli, deduzioni, eccetera, la più grande e gigantesca spostamento di ricchezza dal basso verso l'alto, nell'illusione classicamente neoliberista fallimentare e indimostrata della trickle down economics, l'economia dello sgocciolamento. Io tanto meno faccio pagare le tasse ai ricchi e agli ambienti, tanto più questi compreranno la macchina, daranno il lavoro, muoveranno i consumi. Ricetta reganiana farlocca, come è noto, da quando in America è stato provato, poi in realtà non cambiarono subito, nel giro di pochi mesi, questo orientamento alla politica fiscale, non è avvenuto tutto questo e sono aumentate a dismisura le diseguaglianze tra i redditi, soprattutto quelli tra i redditi da lavoro e quelli da capitale. Ebbene, l'ipotesi dell'incondizionatezza di un reddito di base è una politica di attacco. Cioè, tu prospetti questo spostamento dal basso verso l'altro, tanto per cambiare come se negli ultimi 30-40 anni non fosse successo, no, ma è molto di più questo. Cioè, proprio un turbo a questa dinamica già ben strutturata. Allora, io ti prospetto una politica esatta e contraria, ancora più radicale, di spostamento dall'alto verso il basso, che prevede evidentemente un serio discorso anche su fisco e in generale sulla redistribuzione della ricchezza pubblica e privata prodotta in questo Paese. In tutta evidenza, questo discorso che sto facendo non può essere fatto esclusivamente a livello nazionale, è un discorso eminentemente europeo e permette finalmente di identificare un nuovo vettore molto significativo a livello politico per ripoliticizzare questa Europa austera e infelice. Grazie. Grazie.